Salve a tutti e bentornati all'angolo del gameplay con God of War, ci eravamo lasciati su questa spiaggia dopo aver parlato con Sindri E infatti Si tratta di magia, grazie Sindri, grazie Allora, dovremmo liberare una barca, dobbiamo rompere questi affari qua, con un bel lancionetto, così Libera, libera, lo stiamo perdendo, libera Ok, questi oggetti ci serviranno per potenziarci permanentemente La barra, la barra Le cose che fa la schiuma, non è l'acqua, la barra Ma di testa? Prova un momento Voci! Tu non le senti? Non sento niente Se ne stanno andando Sentivo delle urla Tante voci, arrabbiate E tu, non le sentivi? No Erano... Malvagie Ok, Atreus Sì, va bene Meno canne La prossima volta Allora Per recuperare appunto Quella luce La Ring of City di Dark Souls Evidentemente è un metodo Che usano tutte Ok, torniamo alla barca Ecco qua E' una Credo Come credo E' anche Devi essere pronto Ancora Ancora Ma non imparate mai Non imparate mai Quando è il momento di smetterla Dicono cose strane Un po' per tira L'ha detto Cosa dice E' bene Questo era l'ultimo Che problema hanno con noi? Noi non siamo di qui Non con noi Ma problemi mentali Probabilmente ne hanno molti Come te Del resto Ragazzino Vabbè Ho deciso che Alcuni combattimenti Ritaglierò Perché sennò Qua non finiamo più Vengono video di 50 minuti E poi vi lamentate Non ve li vedete Combinati insieme così Sembrano una specie di rune Una specie Ma non ha senso Vieni Alla vasca di sabbia Ok Scrivila allora Tracciala Sembra sti problemi di emicrania Atreus Prenditi un momentat Ma erano voci diverse Meno arrabbiate Chiedevano aiuto Noi siamo qui per la luce Non mi importa chi siano E cosa vogliono Non ti importa mai niente Hai qualcosa da dire? No Atreus Se ti arriva un ceffone E Cratus ti spedisce All'altro mondo Hai visto che forza che c'è? Magia Stregoneria Tecnologia Padre Sì? Le voci che sentivo Non erano chiare Ma in sottofondo Sono sicuro fosse Mab Non è possibile Ma l'ho sentita Atreus Basta Ah bene Altri nemici Vieni Dietro di me Questo qua sembra Più forte Degli altri Deve vero? Non è possibile Infatti è scappato E BOOM Dai l'ho colpito E Preso Vedo ora di sbloccare nuove abilità Però dai cavolo Non mi colpisco neanche mezzo E BOOM Mi fa darmi fastidio Mi profano qua Cadete Cadete Sto per morire Qua cavolo L'ho fatto No Non è morto Adesso sei morto Bene Ce l'abbiamo fatta Allora Abbassiamo tutto Abbassiamo Dobbiamo andare in quel tunnel Così Ecco qua Ok Adesso che è congelato Possiamo andare E poi Lo ritiriamo Quel forziere Si può prendere Da qua Cosa? Atreus Sta diventando Un po' troppo Impertinente Questo ragazzino Questo ragazzino Allora Intanto io mi prendo Il forziere qua Che è sempre utile Potremmo trovarci Equipaggiamento Roba Ecco ad esempio Abbiamo trovato Un oggetto raro Un incantesimo Se non c'è nulla Possiamo andare Sì possiamo andare Direi Olè Oh no C'è il cattivo Ci pensiamo noi Ci pensiamo noi Madonna la mira Comunque Complimenti Grazie Non vi sento Non vi sento Vi sto massacrando Di punti Non riesco a sentirti Senti qualcosa da dire Qualcosa da dire Voglio solo fare amicizia Venite C'è un volume altissimo Non sento nulla Se mi stanno chiamando Se sono in pericolo di morte Io non sentirò nulla Adesso Adesso non posso fare nulla Che tu fai adesso Non posso stare a guardare Ehm Ah devo scala Ah non parecco Forza Ah Scalpa ragazzo Sono ancora Ce ne sono ancora No dai Stavo riuscendo Vaffanculo Devi morire Maledetto Muo Muo Ehm Così Stai giù E stai giù E ringrazia Non dovresti mi faccio saltare in aria Eh L'ho pagato un attimo Oh ok Oh al volo pure Lo ucciso Grazie Eh Altra roba Che senso Ah sti cosi qua Eh si Si spaccano subito Così Via Se eliminiamo quella roba Il ponteria apparirà Capito Ci attaccheranno Capito Come è giusto che sia Noi stiamo invadendo la loro casa E' giusto che ci attacchino Poi dobbiamo andare di qua Arriveremo al ponte Di La luce di Elpheim Entro l'episodio Spero di si Spero di si Vediamo Ah vi faccio vedere Le nuove abilità Questa era quella che dicevo E andando avanti Correndo posso saltare E massacrare i nemici Molto più facilmente Poi altre abilità Carica dell'ascia E lancio Poi si congelano i nemici E li prendi a pugni Li prendi a pugni Così Voglio finirci Ammarill Ecco Poi altre abilità Se lancio l'ascia normalmente Dopo un po' Inizierà A Illuminarsi Immenso Oh merda Oh merda Come si uccide Un essere fatto di pietra Lo spaccio Lo spaccio in due Finchè non muore Aia mi stai facendo malissimo Malissimo Siamo contro di lui Ok Usiamo le bombe Contro di lui Allora Io te ne lancio Un altro paio di bombe però E vabbè però Dai Dai Cosa Che è successo Ma dai Ho sprecato Oh sto morendo Sto morendo Piano 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 Con calma Con calma Mecca di questa Mecca di questa E certo che Vaffanculo Ma perché esplodono Stronchi però Dai Volevo Curami Atreus Curami Curami Non male Che avevo la pietra Della resurrezione Almeno abbiamo visto Come funziona Oh Piano Piano E stai giù E stai giù E stai giù E zitto Meglio questo Meglio questo La stai congelando Segliati Che cazzo Ha sempre avuto Tante belle idee Non è stupido Caraccio Essendo stato lui Un generale spartano Era molto intelligente Poi Poi è dotato Poi è dotato anche Di super forza Diciamo che Non è un nemico Che vorresti Mettersi contro Però noi Non dobbiamo andare Di là Sì dobbiamo andare Di là E però di là C'è C'è una forza Volevo andare Anche a vedere Quella forza Vabbè La andremo a vedere Un'altra volta No La luce non crea Solo ponti E questo potrebbe Riportarci in cima Ma va Bravo Atreus Vedi che un po' D'intelligenza L'hai hereditata Dal padre Questa porta Non si apre Ehi Ma perché Mettere una porta Allora Ehi Vieni Cerchiamo Una vera entrata Vabbè Scendiamo da qua Dovevo trovare Un'altra entrata Ancora quel nano Sintri Guarda qui Un altro Un altro Di quegli armadi Apribili Questa gigantessa È una stre... Caspita Avete ucciso Un antico? Sì È stato Difficile? Sì Questo è Tutto ciò Che potete darmi? Sì Ok Qualche cosa vogliate Mi potenzio un po' E poi continuiamo E vabbè Ti ha salvato Il masso Ti ha salvato Il masso Ti ha salvato La campanella Quanti cazzo siete? Oh Piano Piano Siete troppi 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 Merda Troppi Troppi Cazzo 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 Mi serve vita Mi serve vita Datemi della vita Datemi della vita Evidenti Merda Devo risolverla Alla lontana Alla lontana Morite tutti Morite tutti Guarda che si parano Bastardi Non potete farlo È contro le regole Parazzi Eh dai Almeno uno Muoia Almeno uno Adesso ti faccio vedere io Il mio nuovo attacco D'ascia Uh uh Ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Adesso guarda questo E ti congelo anche E ti congelo E stai zitto E stai nuto E stai fermo Capito? Perché contro di Kratos Non ci si mette Andiamo a Treus Il destino ci aspetta Tra l'altro noi l'abbiamo ammazzato Il nostro destino In God of War 2 Dovete sapere Perchino non ha mai giocato Kratos ammazza le panche La luce Non le porte Le parche E le parche Per chi non lo sapesse Sono Queste creature Che tessono i fili Della vita Degli uomini Kratos le ha ammazzate Ha ammazzato Le creature Che hanno creato Il suo destino Non sai cosa abbia condotto A questo Ma non si è nemmeno difeso È stata la sua scelta A noi la nostra La nostra scelta È ammazzarli tutti Senza fietà E muorici 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 Maledetto Userei un po' di rabbia Perchè qua Ha paura di morire La rabbia recupera un po' di vita Non tanta Ma almeno un po' La recupera Vedete Sono morti come Adesso direi che possiamo Entrare Yes Andiamolo Ancora nemici? No Sì Gli incubi Quanto li odio Gli incubi Fermo Ho visto Questo attacco Più pesante Degli altri Succede quando Lascia Si illumina Io li ho presi tutti Tu non hai fatto un cazzo Atreus Muori 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 Che arriva l'altro Muori Muori Vita Momenti Momenti di tensione E adesso Colpo finale Non siete morti Ecco L'ultimo Vola Farfallina Vola Ma devi stare fermo Oddio Momenti di tensione Paura Ok Congeliamo anche Questo Cosa Stai ricreando i sentieri Tra l'altro oggi registrerò solo questo episodio perché fuori c'è un tempo di merda la videocamera come potete vedere ne soffre parecchio Quindi arriveremo al tempio di luce prenderemo la luce e ce ne andremo da qua e termineremo l'episodio dovremmo essere quasi arrivati ormai Ah qua c'è un po' Qua c'è il coso degli enigmi No Si riparano questi Da dove devo romperli Solo capire il giusto Pat 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 Pater 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 Robert Pater Pater Va bene Avete capito Adesso questi Così E infine Questi Come no Come no Ok Adesso si Adesso si C'è una faccia qua Va bene Il brudelneso Il brudelneso Non credo che dovremmo essere qui Taci Pat Pater Non tiene mai la bocca chiusa Io ho un scefone Sta allerta È vicino a me Ehi Quando raggiungeremo la luce Come faremo a infonderla al Bifrost La strega ha detto di entrare Quando Quando è scomparsa da questo regno Oh E non l'ho sentita Pensavi più alla sua incolumità Che al nostro scopo Padre Tranquillo L'ho bloccato Usa il pugnale Non so parlare oggi La dislessia Ci è mancato poco Non allontanarti da me Non devi dirlo Allora Camminiamo in cunicoli Stretti 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 Oh È Appiccicoso Atreus Queste cose Non ci dicono Stai indietro Ma fate a scivolare La luce Stai zitta Atreus Capisci di stare zitto Ma dobbiamo essere cauti Hai capito? Sì Urla Questo ragazzino urla Ma tua madre non ti ha insegnato Che non si urla Ah Sti ragazzini di oggi Che non conoscono L'umiltà Il lavoro sodo Io a 12 anni Andavo già a scavare Le pietre In miniera Dobbiamo agire in fretta La gioventù Che non porta rispetto Per gli anziani Io dentro E avrei La leva obbligatoria Tutti in guerra Stava meglio Quando ci stava bene Ok Attento Arrivano Stammi dietro E copri il fianco D'accordo Ok Direi che Adesso si massacra gente Si massacra gente Aia Sono tanti Un po' tanti E lo vedo che sono tanti Ma mi ha fatto affarare il corpo Fanno giù come mosche Tra l'altro Sono tutti di livello 1 Riduce l'intervallo tra i tiri Avete rotto il cazzo Ci sono molti più Una strada stretta Allora la superiorità numerica Conceglia Sono troppi Non mi lascia Oh basta Guarda Non mi farò attaccare Sono troppi Atreus Spara qualche cazzo Di freccia però Eh meno male Ragazzo 130 Simula Ti sei fatto male Sto bene Wow È bellissimo È successo qualcosa Allo schermo Non so cosa sia successo Fa riapparire il tempio Va bene È la fonte di tutto qua Senti Sta Sta cantando Sento La sua voce Te l'avevo detto che era lei Pensi che sia lì dentro Quanto fa male Sembrava che la mano andasse a fuoco Resta qui Ma io voglio Resta Qui Usala solo se necessario Mi hai dato la tua ascia Ti ho affidato la mia ascia Non te l'ho regalata Forte Ok ci troviamo dentro la luce Che mi succede Che mi succede Faye Faye è la moglie È la madre di Atreus È la moglie di Krakow Devi tornare indietro No la moglie di Atreus Mi hai lasciato qui solo Atreus Solo con lui Stiamo seguendo Una luce In fondo autunno Non è mai qui Non mi vuole E non mi vorrà mai Io non lo conosco E lui non mi conosce Non sembra interessato Io sono forte Sono intelligente Non sono come pensa lui Io lo so Lui non mi parla Lui non mi insegna niente Doveva morire lui Mi senti? Lui non te Paroli pesanti Paroli Parole pesanti Ma non dico sul serio Sai che gli voglio bene Vorrei solo che fosse migliore So che potrebbe Se ci proverà Io ci proverò Ma se non lo farà Ti prego torno Lo so che ci sei Stiamo vedendo il futuro Adesso Io ho già giocato Il gioco Queste sono parti future Che vedremo dopo Non è spoiler Non preoccupate Sono luoghi che visiteremo Il futuro Aspetta Torna da noi No No Che cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Ti ho salvato Tu eri intrappolato Ti ho aspettato tanto Ma tu non uscivi più Allora ti ho tirato fuori Ragazzo Sono stato via a pochi Momenti No Sei stato via per tanto Tanto tempo Io non sapevo cosa fare Mi hai lasciato solo Di nuovo Di me non ti importa Io Ma è impossibile Andiamo prima che tornino Spero tu abbia ciò che volevi Però A Treus Ne ha ammazzati giusto un paio Devo dire Guarda Ecco l'uscita Ma non c'è luce per creare un ponte Siamo in trappola E la corda della strega è inutile Ne ha ammazzati parecchi Complimenti a Treus L'arco Sì Ok adesso abbiamo delle frecce più potenti Che possono aprire I postali I postali Scocca la freccia I fonti di luce Funzione Voilà Ora possiamo tornare indietro Vieni Ma lo faremo nel prossimo episodio Perché ci fermiamo qua per ora Perché si Guarda quanti li ha ammazzati Una carneficina Poteva andare da solo a Treus Lo faceva prima Guarda qua Vabbè Grazie per la visione Ci vediamo Il prossimo episodio Via Ciao a tutti Ciao a tutti